Grazie, oggi sono andato a scuola e il mio amico TheBestGhety, ah comunque grazie Gaeta per il commento che hai lasciato sotto al video con mia cugina ma abbiamo solo 12 visualizzazioni, 2 mi piace e un dislike quindi tu pensa però grazie allo stesso di aver scritto che arriveremo a 50 like allora, oggi, se mai, vi dico già che a scuola il mio amico TheBestGhety, cioè Gaetano, mi ha detto ma perché non fai più video? Io gli ho detto, guarda io vedo troppi video su YouTube talmente che 5 giga li finisco in 3 giorni, una settimana o 5 giorni, ecco vi voglio dire che registrerò se mai altri 2-3 video perché veramente mi sono scocciato siete iscritti, sto cazzo e sto mazzo ma oggi vi porto Boxing Road che è nuovo perché gli altri li ho disinstallati che non mi funzionavano bene, ho scaricato questi qui ora provo, lo provo con voi ah, è dalla Unity, quindi è già da Unity, fa bei giochi io con la Unity da piccolino si fa in più, fa sempre allora, che dobbiamo fare? va bene, vai va bene va bene va bene no no, non voglio spegnere dopo questo non voglio spegnere cacchio scusate raga che in ultimi giorni ho avuto il mio telefono che non funziona tanto bene ma non voglio l'ho mangiato va bene club perché si non so come funziona quindi club non andiamo ci sono no 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 ho fatto abbastanza eeeh 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 faccio anche un altro test perchè non faccio ma questo che cosa non c'è Ehm, come faccio? No, 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 no... No, no, no... No, no... N productivity... No, 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 no. Dai, dai, dai... Tu ne pensi che che che... ... Thessi che deve... ...corro del cuore, come si non volete. Questo che sembra abbastanza bello, è vero, grazie, non voglio dire che non è niente nemmeno. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti